Si chiama Jordan Steffi, è un ragazzo il quale sarebbe stato deriso ogni giorno dai bulli di una scuola negli Stati Uniti d'America e così il ragazzo stufo di questi accanimenti, di questi attacchi di tipo omofobo avrebbe, diciamo così, avuto la voglia di affrontare tra una lezione e l'altra il suo compagno di casse che poi effettivamente ha fatto. Non sto scherzando, avrebbe detto il ragazzo, non devi più darmi fastidio, non chiamarmi più frocio. Nonostante però l'avvertimento, il bullomofobo torna sotto il viso del ragazzo. Perché mi sta vicino al viso frocio? Troppi per Jordan quegli epiteti ricevuti, tanto che il ragazzo reagisce in maniera violenta. La furibonda rissa viene ripresa dai compagni che, invece di andare a fermare, i due restano immobili, immobilizzate sui banchi. Qualche ora dopo i ragazzi quindi vengono convocati dal preside della Laporte High School, questa è la scuola di Laporte, per essere poi sospesi. Jordan poi avrebbe riportato su Facebook o sui social. Volevo solo delle scuse, il mio compagno mi umilia dalla seconda elementare. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi. Un saluto caro a voi. Ecco, la reazione secondo me è giusta quella del ragazzo, ma è questa la mia opinione. Ciao, al prossimo video.